Una cultura nuova, più generosa, aperta al valore della donazione anche dei propri organi quando non serviranno più. Cresce il numero dei donatori, il 19% in più, pari a 1762 anonimi. Nel 2016 erano 1480 e cresce anche il numero delle richieste di accertamento valide per la donazione, 2734 rispetto alle 2478 di un anno fa. Diminuiscono invece le opposizioni alla donazione da parte dei familiari, a conferma di una sensibilità più matura. Lombardia con 282 donatori, poi Toscana con 228 e Veneto con 199, le regioni più generose. Ma anche il sud inverte la tendenza e diventa locomotiva della donazione. In Basilicata donatori passati da 13 a 20 per ogni milione di persone, in Campania da 13 a 19, in Sicilia da 12 a 19. Non si tratta di dati di poco conto, perché mostrano per la prima volta un sud Italia in risalita. In Campania si registrano ad esempio fino al 40% in più di trapianti. E la voce scettica di chi solleva dubbi è sempre più fioca. Fino all'anno scorso due famiglie su tre negavano il consenso all'espianto. Oggi soltanto una famiglia su tre esprime il suo rifiuto. Lunga però la strada ancora da fare. Per 2.039 trapianti di rene ci sono ancora 6.793 persone in lista d'attesa. 1.351 i trapiantati di fegato, 1.030 in attesa. 278 quelli di cuore, 748 aspettano una vita nuova. 149 quelli di polmone, 348 in lista. Infine lo spot sulla donazione che ha commosso il mondo. Col fedeli amico dell'uomo che segue il suo proprietario colto da infarto fino in ospedale. E poi all'uscita lo riconosce comunque. Dopo tanta attesa è arrivato questo cuore nuovo. Come stai? Abbastanza bene, mi sto riprendendo. Va sempre meglio, vedo come appunto il corpo si sta abituando a questo nuovo cuore. Diciamo ogni giorno va meglio. Era tanto che attendevi? Era, è passato un anno. Io, vabbè, quando uno sta in attesa ogni giorno ci pensa. Quando arriverà la chiamata, chissà se mi chiameranno oggi. Ogni giorno che uno andava a letto, cioè quando ogni volta mi addormentavo, mi assicuravo di avere la suoneria al telefono perché non si sa mai. Ero a cena con degli amici e mi ricordo stavamo andando via dal ristorante. Ricevo la chiamata dell'ospedale, io ho il numero memorizzato. Erano le 11 e mezza e mi ricordo, cioè ho visto la chiamata quindi ho collegato subito, ho risposto. Era la dottoressa che mi stava dicendo che c'era un cuore, stavano valutando questo cuore di una ragazza e se intanto potevo andare in ospedale. Diciamo, ero felice e terrorizzata allo stesso tempo. In Italia il ricevente non può incontrare, no? Né la famiglia né sapere chi lo dona, giusto? Sì, è così. Prima veniva detto il nome del donatore, della famiglia, ma adesso per motivi di privacy così preferiscono non dire. Quali sono le tue sensazioni da quando hai avuto questa operazione e quali sono i tuoi pensieri e i tuoi progetti futuri? Allora, appena uno apre gli occhi sicuramente senti la differenza di un cuore sano che batte appunto fortissimo, cioè batte forte e bene. E poi allo stesso tempo pensi che non hai più il tuo cuore ma il cuore di un'altra persona che non c'è più. E quindi un po' come prima c'è queste emozioni contrastanti di felicità, di paura, di dispiacere. Ecco, mi ricordo che la dottoressa quando mi visitò mi disse hai un cuore che è una Ferrari, no? Quindi allo stesso tempo sono contenta di aver ricevuto questo cuore forte, però poi mi è venuto anche da piangere per questa ragazza appunto che non c'è più e che invece tutta questa energia avrebbe potuto sfruttarla in altro modo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.